Vieni con noi a Milano per presentare la tua azienda, i tuoi prodotti, i tuoi eventi a buyer, influencer, blogger, opinion leader e mass media. Campania, territori, aziende e prodotti per una destinazione da scoprire, visitare e vivere. Destinazione Campania, a Milano per proporsi all'Europa in modalità on e offline, dal 24 settembre al 21 dicembre 2019. Destinazione Campania, una occasione per promuovere, valorizzare e commercializzare territori, aziende e prodotti nello showroom Spazio Campania, in Piazza Fontana, a due passi dal Duomo. Per maggiori informazioni e per modalità di partecipazione vai sul sito www.destinazionecampania.it alla sezione Come partecipare. È un'iniziativa di Rete Destinazione Sud.